Abbiamo completato l'operazione di voto, abbiamo eletto Barbara Floridi a capogruppo a Senato, Francesco Silvestre alla Camera. Sono votazioni che si sono concluse all'unanimità, quindi grande compattezza per questo avvio di legislatura per il Movimento 5 Stelle. C'è un ottimo clima, vogliamo lavorare insieme, fare un'opposizione seria, ma anche senza sconti, intransigente. E quindi ci siamo predisposti per lavorare e sottolineo anche una nota positiva, grande presenza femminile, in particolare nel direttivo del Senato di gran lunga prevalente, ma anche ottima presenza femminile anche nel direttivo della Camera. Domani l'appello ha rilanciato l'appello all'unitale, cosa risponde? Guardi, noi siamo interessati a lavorare sui temi, sulle nostre battaglie ovviamente che conduiremo dall'opposizione, strada facendo vedremo chi condivide le nostre battaglie. È inutile fare discorsi a tavolino, è inutile fare accordi preventivi, l'opposizione si dimostra facendola, vedremo chi vorrà con noi condividere una linea intransigente e chi invece si adopererà, qualche segnale abbiamo già avuto, per fare da stampella alle forze maggioranze. Presidente, domani è il primo banco di prova, ci sono le elezioni importanti, e non si parla al Pembrovo. Noi siamo una forza di opposizione, abbiamo avuto un ottimo successo elettorale e sicuramente ospichiamo che ci siano negli uffici di presidenza di Camera e Senato una nostra adeguata rappresentanza, punto. Lasciamo stare agli altri, diciamo, confabulare e sparare affermazioni del genere che le ne ha riassunto. Presidente, con la maggioranza su quali temi si può avere un banco?